le parole sono di fabrizio di andrè riflessioni sulla scoperta invasione dell'america voglio soltanto dire che la sera del 12 ottobre del 1992 perché questo parla appunto di quell'anno lo disse quell'anno non starò certo a brindare al cinquecentenario della scoperta dell'america anche perché desidero ribadire ricordare che non si trattò di una scoperta casomai di una riscoperta perché quando cristoforo colombo con il solito cappello fluente occhio sognante piede sicuramente fetente sbarcò sull'isola di santo domingo c'era una popolazione c'erano quelli che poi sarebbero stati chiamati indiani domenicani soli scusate sono andata avanti ed era lì da circa 20 30 mila anni avevano attraversato lo stretto di bering insieme a tutti gli altri che sarebbero stati chiamati a loro volta indiani quindi la sera del 12 ottobre 1992 almeno per quanto mi riguarda starò vicino agli indiani che ricorderò insieme a loro quello che loro considerano il giorno del più grave lutto nazionale e io concordo pienamente con queste parole io so sempre dalla parte degli indiani ciao mondo volate in alto